e ho ascoltato con attenzione la relazione del professore di cui non mi scuse il nome ma che ringrazio personalmente. Tutte queste tesi sono senz'altro condivisibili e il professore ha toccato i problemi importanti relativamente alla pastorizia, che i cani anche in abbondanza i recinti non funzionano sufficienti, basta fare un stato in Francia nell'Ubhai dove ci sono stati i cani, però l'uomo c'è il corpo del cane per cui sono dei palliativi. I problemi dei caprini sono ancora un po' diversi da quelli di Agiovin perché noi abbiamo la fortuna di avere per adesso un solo ma un bravo elevatore caprino che facendo il prodotto, confezionando il prodotto lattiero caseario ha altri tipi di problematiche che ci sono delle problematiche stanziali. Però i grandi problemi relativi secondo me alla nostra valle, parlare solo di ovini e di pastorizia in senso stretto e molto riduttivo, anche perché la nostra valle storicamente non ha mai avuto una grossa presenza di allevamenti ovini. In questi ultimi anni era partita una serie di allevatori giovani, anche in coincidenza, io poi li conosco tutti personalmente, anche in coincidenza all'apparizione del lupo ma anche per altri fattori, alcuni i più motivati hanno cambiato tipo di allevamento e altri ci sono piano piano spenti. Io parlo di problema riduttivo perché la grossa realtà della nostra valle è l'allevamento zootecnico legato al bovino e alla razza piemontese. Il pastore e la pecora sono per adesso la prima vittima dell'apparizione del lupo in valle, perché teniamo conto che è una valle in cui il lupo è praticamente affasso con i problemi relativi in tutta la sua gravità soltanto negli ultimi due anni. Prima avevamo qualche passaggio, io il primo lupo l'ho visto dieci anni fa, però non c'erano dei passaggi sporadici, eravamo un oasi, un enclave dove il lupo non c'era e dove c'era dappertutto, in Francia nel lupo ci sono due o tre branche e in tutte le valle vicine. Da quando è arrivato i problemi sono stati grandi. Per adesso, le abitudini del lupo, per adesso sono di una caccia selettiva vista l'abbondanza dei piccoli umbulati. Lui adesso, noi quasi giornalmente troviamo la carcata, lui adesso si è specializzato nella caccia capriolo. Gli attacchi, almeno quelli che io non penso di conoscerli tutti, ma gli attacchi che sono stati portati anche ai grandi greggi in montagna, ma poi anche sporadicamente ai vitelli e in qualche caso non nella nostra valle purebri, sono da ritenersi, anche perché ci sono stati degli avvistamenti, legati soprattutto a degli animali solitari. Il problema grosso non è ancora partito. Nei prossimi anni dobbiamo aspettarsi un'escalation. Se noi consideriamo che grosso modo, poi magari mi diranno che ho torto, i branchi di lupi mangiano in valle almeno un capriolo al giorno. Io non sono tanto esperto del numero di capriolo, sono qualche migliaia, però in pochissimi anni loro restano senza l'obiettivo principale, perché uccidere un capriolo, soprattutto in inverno è facilissimo, quando in questo momento c'è un incremento della popolazione esponenziale. Noi siamo passati, tre anni fa avevamo due lupi a prazzo, che andavano da prazzo a Canoggio, che hanno fatto il primo danno e hanno fatto chiudere la prima azienda, quella dell'ex sindaco di Canoggio, perché gli hanno mangiato tutte le precole. Ormai probabilmente si possono contare da due a tre branchi, più altri animali solitari. Si passerà, io vi dico questo anche perché ho delle esperienze sui settori limitrofi francesi, si passerà in breve tempo all'inizio di una caccia sistematica, prima ai puledri, poi ai vitelli, ma caccia sistematica vuol dire che arriva al branco nella mandria e uccide due, tre, quattro vitelli. Ecco, io conosco delle realtà, per esempio quello di Giorgio, lui ha fatto nascere dei vitelli piccoli quest'estate vicino a quelli in tarsine. Una cosa di quel genere, in situazioni quando scarseggia la caccia, saranno impensabili e non ha avuto nemmeno un attacco. Per cui dobbiamo ragionare in prospettiva per sollevare questi problemi. Io parlo della Vesupi, l'esperienza sui cavalli nella Vesupi, c'è un allevatore nel valore della Gordolas, che è immediatamente dietro il valore delle Maraviglie, che inizialmente ha cominciato ad avere un puledro morto, poi adesso sono stati abbattuti anche animali adulti, magari animali già un po' più anziani, per cui dobbiamo pensare, un allevatore di Piemontese, che il vitello è solo la prima fase, perché quando poi non trova più il vitello comincia a trovare la vacca che magari zoppica, ecco, e comincia a uccidere anche perché se riesce ad uccidere dei cavalli adulti, un branco di Lupi, vuol dire che non riusciamo più a difensersi. Nell'altra parte del Lubaio ormai è sistematico che gli allevamenti, ci sono pochi allevamenti in montagna di bovini seguiti da vitelli, però chiaramente questi tipi di allevamenti stanno cessando perché i vitelli non è che uno ogni tanto, glieli mangiano tutti sistematicamente. Se noi guardiamo la valle di Valtanaro, là è probabilmente più scarsità di piccoli ungulati e i vitelli non possono più essere tenuti come sono tenuti normalmente da noi. Per cui questa è la prospettiva. La prospettiva per la nostra valle è particolarmente devastante perché da noi c'è soprattutto per l'allimamento stanziale, che comunque è un settore economico strategico, ma non solo dal punto di vista economico, perché l'agricoltura, insomma, le cifre sono piccole, anche se abbiamo dei sostegni, ma per la presenza umana sul territorio e per la conservazione dell'ambiente. Perché sono queste le tre valenze che dà l'allevatore stanziale in montagna. Conserva l'ambiente, tiene aperte le borgate e fa anche un po' di economia. Certo che se il problema, hai visto come è stato detto dal funzionario regionale, che bisogna vietare gli insediamenti isolati. In Valmaira gli insediamenti isolati sono pochissimi. George è un'eccezione. Però noi abbiamo tutta una serie ancora di insediamenti isolati per cui con un nucleo familiare nella frazione, che è solo quello che tiene un po' aperta la nostra valenze. Con questa teoria dobbiamo sopprimerli. Tenete conto che se questo problema continuerà a lievitare, gli insediamenti isolati, le persone sole, gli anziali non potranno continuare ad abitare in frazioni sperdute, che è la nostra caratteristica. Per cui il problema dovrebbe cominciare contestualmente anche su un problema di sicurezza della popolazione. io ho tralasciato il problema dei margari, perché noi intendiamo i margari transumanti, anche perché qui vedo che c'è una folta rappresentanza dei margari, che anche questo è un settore strategico, con delle problematiche diverse, perché restano tre mesi in montagna, però hanno un grosso ruolo e poi vanno in pianura. Tenete conto che noi che facciamo nascere i vitelli in stalla o già magari sul prato e già piccoli li mandiamo al pascolo dietro le fattrici, le vacche, questo tipo di allevamento non potremmo più fare. Come non potremmo più fare l'alpeggio con un controllo sistematico, ma non continuativo dei nostri armenti sugli alpeggi, perché non è possibile dal punto di vista economico, io sono consorziato, faccio un mio esempio con una mia collega che è anche qui presente, noi abbiamo una sessantina di fattrici, portiamo in alpeggio cento e qualche bovino, non possiamo permettersi di lasciare una persona continuativamente a fare la guardia al lupo, per cui tutto questo tipo di realtà sfruttando degli alpeggi marginali, nel senso che sono alpeggi di piccole dimensioni, che se non li sfruttiamo noi non li sfrutta nessuno, perché la questione di pensare di fare diventare tutti gli allevamenti di grosse dimensioni nella nostra valle lascia il tempo che trova, anche dal punto di vista degli allevamenti degli uvini. Ci possono essere due o tre allevamenti ovini che si possono permettere migliaia di capi e tutti gli antipascoli vengono sistematicamente abbandonati.